E' un sacramento che ti permette da questo momento di entrare nella porta del cuore di C'è un sacramento che ti permette da questo momento. C'è un sacramento che ti permette da questo momento. C'è un sacramento che ti permette da questo momento. C'è un sacramento che ti permette da questo momento. C'è un sacramento che ti permette da questo momento.